Far amare l'amore. 2 giugno 1977. Figli di Letti. Sia pace a voi. Sono Gesù Salvatore. Presente in mezzo a voi per esortarvi a passare questo mese in un modo speciale. Il periodo di Pentecoste è simile ad un'estate spirituale. Come in questa stagione voi raccogliete frutti saporiti. Così io mi avvicino alle anime e mi aspetto che nel calore crescente dell'amore. Di cui lo spirito vi fa dono. Ciò che è stato seminato nelle diverse festività liturgiche maturi quelle opere cui ciascuno è tenuto secondo il proprio stato. Opere che devono essere come il buon frumento che andrà a riempire i granai eterni. Quanto sono stolti coloro che pensano solo ai beni terreni. Quanto devono temere coloro che attaccano il cuore ai beni fallaci della vita. Si troveranno con un mucchio di foglie che il vento disperderà. Oppure riempiranno i propri granai di pula destinata a bruciare. Dov'è il tuo tesoro? Sarà anche il tuo cuore. Ecco perché desidero da voi quell'amore che vi porti a compiere con perfezione ogni vostro dovere e vi invito a staccare il cuore non solo dalle cose passeggere. Ma anche da voi stessi. Perché nel compiere il bene non cerchiate la vostra soddisfazione. Desidero che siate perfetti. Non importa lo stato in cui vivete. Laici, religiosi o sacerdoti. Uno solo deve essere il fine della vostra vita. Crescere nell'amore. Far amare l'amore. Guardate se la vostra capacità di sopportazione, il vostro fervore nel bene, la vostra missione di carità sono andate crescendo. O se, invece, vi perdete ancora in piccole e grandi rivalità o nelle futilità della vita. Da questo avrete la misura della vostra maturazione. Se, nella vostra vita familiare e sociale, avete portato pace, serenità, armonia, se siete capaci di ricevere umiliazioni e rimproveri senza ribellarvi e senza rattristarvi, anzi con la convinzione di meritare di peggio, vuol dire che il seme è marcito nel terreno e sta già mettendo la spiga. Dovete dare frutti buoni. Dovete rivestirvi di umiltà e saper crescere lentamente ma costantemente, mostrando a tempo e luogo la vostra fede e la vostra carità. Se doveste camminare soli potreste temere. Ma al vostro fianco c'è tutto un mondo soprannaturale che gode delle vostre conquiste e che vi aiuta a progredire. È importante che si metta mano all'aratro e non si torni indietro. Rinnovate dunque i vostri propositi e cercate il modo per attuarli. Solo se li mettete in pratica voi stessi, gli insegnamenti che ricevete e trasmettete agli altri possono recar frutto. Diversamente, la vostra parola, priva di quell'efficacia che deriva dalla grazia, sarà come una campana stonata. Molte mamme si lamentano che i loro figli non le ascoltano. Forse le loro parole sono campane stonate. Provino queste mamme a condurre una vita più santa. Sarò io stesso allora che parlerò alle coscienze e ai cuori. Se, dopo una vita di superficialità e di indifferenza, si arriva a cambiare musica, non si può pretendere che essa risulti subito gradita all'orecchio altrui. Ci vuole del tempo. La parola deve essere in primo luogo convinzione profonda, pratica religiosa, vita. Ecco perché dico a voi e a tutti i cristiani della terra, figli miei, riempitevi d'amore di Dio nel compimento dei vostri doveri, perché producano frutti di vita eterna. Staccate il vostro cuore da ciò che non vale e pensate a edificare le anime col vostro esempio. Vi sono sacerdoti e religiosi che, dietro il voto di povertà, nascondono un desiderio intenso di possedere. Le loro opere sono costruite sulla sabbia e finiranno miseramente. Rettifichino il loro comportamento e tornino ai pensieri e ai sentimenti che hanno guidato i santi fondatori dei loro ordini. Ad essi dico. Tenete di mira il cielo e fate vostro il desiderio ardente del mio cuore. Cercare le anime. Custodire le anime. Amare le anime. Tutto il resto è nulla. Vi mando come agnelli tra i lupi e tuttavia sappiate che io so trasformare anche i lupi in agnelli. Più sarà vera la vostra santità, più il vostro apostolato sarà efficace. Il fuoco d'amore che arde nel mio cuore si comunichi a voi e, per mezzo vostro, ad altri.